Una beta è natalizio con le decorazioni più belle, quelle all'insegna della vicinanza a chi è affetto da malattie neurodegenerative e di un aiuto fattivo alla ricerca medico-scientifica. Con le sue luci colorate e le decorazioni in pizzo, 300 piccoli capolavori, si è acceso nel pomeriggio di ieri a Isernia, nel quartiere Codacchio, con la fontana fraterna a fungere da suggestivo sfondo l'installazione realizzata grazie all'iniziativa congiunta di donne sensibili, creative e intraprendenti. A cominciare dal gruppo di mamme che svendono, regalano e fanno, nato su Facebook ma attivo nel sociale con iniziative concrete e soprattutto utili. La loro idea, quella di proporre un'occasione natalizia, suggestiva e al contempo gradevole, grazie alla quale fare appello alla solidarietà della cittadinanza. L'obiettivo sensibilizzare certo, ma al contempo raccogliere fondi per finanziare la ricerca Teleton contro le malattie rare. Detto fatto. Facciamo questa raccolta fondi, ormai come ho detto sono tre anni, perché all'interno del nostro gruppo ci sono le mamme delle due bambine affette da SMA, Giorgia e Adele. Per noi è una raccolta molto sentita. Contiamo di riuscirle a donare tutti quanti, a raccogliere delle offerte da donare poi alla fondazione Teleton. Ad abbracciare il progetto, in modo originale denominato SMAM, le pizzillare della Fontana Fraterna. Le artiste del Merletto hanno realizzato le 300 decorazioni, 300 piccole opere d'arte che hanno impreziosito l'albero. Abbiamo voluto partecipare a questa bella maratona, si può dire, perché siamo quasi 60 persone che abbiamo aderito a fare il tombolo, tutti quanti insieme. Peccate che stasera piove e non sono potuti venire tutte e 60, però siamo una bella squadra. E sempre a proposito di donne impegnate nella solidarietà, il applauso all'iniziativa da Lucia Di Rollo, presidente di Chimo Sonlus. È l'associazione che da quattro anni organizza Antonio Forsma, il Memorial in onore di Antonio Di Rollo, giovane avvocato scomparso prematuramente nel 2015. L'obiettivo anche in questo caso, sensibilizzare la comunità sul tema delle malattie genetiche e al contempo raccogliere fondi a sostegno della ricerca. Quest'anno si sono inventate, Maria Libera si è inventata questa accensione di quest'albero non potendo esserci evidentemente la manifestazione di Antonio Forsma, si è inventata questa accensione di quest'albero che è meraviglioso, basta guardare come è addobbato per raccogliere fondi. Oggi si aspetta un grande afflusso di persone che vengono qui ad ammirare quest'opera d'arte e ad acquistare questi bellissimi pizzi. Nonostante tutto noi non ci siamo assolutamente fermati e abbiamo comunque inventato qualcosa affinché anche quest'anno la maratona andasse avanti. Grazie all'aiuto di tutti e alla partecipazione di tutti stiamo raggiungendo dei buoni obiettivi che all'inizio ci sembravano praticamente impossibili da raggiungere. Grazie a tutti.